E' notizia di questi giorni come l'Europa ha deciso un grandissimo piano di investimento nell'ambito dell'economia green, si parla di mille miliardi di euro, una cifra colossale. Questa università è lieta di aver iniziato ormai da quattro anni un percorso per cui abbiamo i nostri laureati in green economy con un ottimo placement e da ora abbiamo già la nuova laurea magistrale in sostenibilità, si tratta di creare l'economista della vita contemporanea. Uno dei temi fondanti della vita contemporanea, ce ne accorgiamo tutti i giorni, è quello della comunicazione. Come si fa a comunicare bene? Come si narra per esempio un territorio? Come si fa in modo che un territorio come il nostro non venga comunicato? Come si fa in modo che quelle che sono le sue potenzialità vengano sfruttate al massimo? Abbiamo creato un nuovo corso di laurea che viene dall'architettura del Dams, cioè dal Dipartimento dello Spettacolo, perché si possa narrare in maniera diversa i diversi territori, i diversi luoghi e anche le cose che accadono in questi territori. È un corso di laurea bellissimo.